buongiorno e in questa lezione parleremo di form form sono l'elemento che ci consente di catturare le informazioni inserite dall'utente all'interno della pagina web e quindi di poterle poi utilizzare nella nostra applicazione web. Prima di tutto cercheremo di capire come funziona la gestione dei form nelle applicazioni web, dopodiché faremo una breve carrellata di quello che è possibile fare con i controlli disponibili in HTML5 e quindi con i vari elementi che ci consentono di inserire effettivamente l'informazione da parte degli utenti. Parleremo quindi di validazione, come assicurarci che l'informazione inserita sia corretta almeno formalmente e come farlo con i vari metodi che abbiamo a disposizione incluso gestire eventi che vengono scatenati dai controlli del form stesso. Quindi prima di tutto gestione dei form. Questo è il modo di funzionamento tradizionale delle applicazioni web, quello che è stato utilizzato finora e che in parte viene ancora utilizzato. Vi collegate a un server e il server vi fornisce la pagina HTML, pagina che può eventualmente contenere dei form che sono una tecnologia piuttosto vecchia, stiamo parlando di HTML2 del 1995 prima versione HTML che supportava i form, quindi più di 25 anni fa. L'utente inserisce dei dati all'interno dei form, quindi dentro delle caselle di test, checkbox, bottoni e così via e ad un certo punto invia i dati al server tramite un bottone speciale di submit. Questi sono spediti in una maniera standard che per ora non ci interessa e il risultato di spedire questi dati al server con un submit è quello che il browser si attende come risposta a una nuova pagina HTML che deve essere quindi caricate, quindi tutto quanto ricomincia da capo, quindi come se avessimo caricato una pagina HTML di un nuovo sito. E questa è la maniera di funzionare, diciamo, delle applicazioni web tradizionali. Riprendendo il nostro solito disegno che abbiamo già visto più volte, nel momento in cui inviamo dell'informazione tramite una transazione HTTP al server, server web, questo la passa all'application server che si incarica di lavorare questi dati che arrivano dai form e di produrre un file HTML coerente con il prossimo stato dell'applicazione web che viene poi fornito indietro ovviamente al browser che quindi carica una nuova pagina. Le applicazioni web moderne tendenzialmente funzionano in modo un po' diverso perché è vero che la prima parte è sempre uguale, c'è sempre un caricamento da parte del browser della prima pagina che non può essere che una pagina HTML, ma la pagina contiene di forma HTML, uno più forma HTML che consentono l'interazione con l'utente, appunto consentono all'utente di inserire degli input e però nel momento in cui questo accade il JavaScript all'interno del browser è in ascolto per eventi di cambiamento o comunque monitora il contenuto di questi controlli presenti nel form e reagisce in maniera appropriata per esempio andando a modificare dei contenuti all'interno della pagina stessa tramite il DOM che abbiamo appunto imparato a manipolare proprio a questo scopo. Poi valida il contenuto dei campi se viene richiesto che so un'informazione di tipo numerica valida che questo numero sia un qualcosa che ha significato corretto per la nostra applicazione e così via ed eventualmente può anche andare ad aggiornare parti di pagine, inviare informazioni al server e così via senza ricaricare la pagina stessa cioè facendolo in maniera asincrona come vedremo prossimamente. Eventualmente e solo opzionalmente può andare a ricaricare la pagina in maniera asincrona quindi come succedeva nelle applicazioni web tradizionali però questo è un evento abbastanza raro perché ricaricare la pagina vuol dire perdere tutto il contesto di esecuzione dei programmi JavaScript che stanno girando e quindi quindi tendenzialmente si evita e si appunto si processa il tutto lato client e quando c'è bisogno si va a caricare delle informazioni tramite richiesta asincrona al server che comunque avevamo già visto nel disegno precedente, nello schema precedente che possono essere gestite dal server per reinviare anche solamente dei dati e non contenuto html. Parliamo adesso di controlli del form cioè di elementi che possono essere utilizzati per realizzare i nostri form. Prima di tutto come dichiariamo un form? Beh è semplice c'è l'apposito tag form che ha alcuni attributi tra cui l'url da utilizzare per la sottomissione cioè nel momento in cui viene scatenato l'evento di submit quindi premuto il bottone di submit il browser va a caricare questo nuovo url che corrisponde all'attributo action per lo meno nella visione classica della gestione dei form poi vedremo che questo è possibile impedirlo quindi mantenere tutto diciamo lato client e poi viene specificato anche il metodo da utilizzare quando si va a fare la richiesta al server get post metodo http quindi get post di questo però parleremo poi più avanti quando avremo l'interazione col server e ne parleremo in maniera più approfondita in più è sempre utile avere un identificativo per esempio id uguale qualche nome definito da noi sviluppatori della pagina html che ci consente di accedere all'elemento html in maniera semplice per esempio con una get element by id in javascript piuttosto che con altre sintassi che vedremo tra un istante il tag form è un tag normale che quindi consente di inserire qualsiasi tipo di contenuto html quindi del normale html quindi anche contenuto testuale immagini eccetera e in più ovviamente i controlli del form i controlli del form sono un insieme di elementi html che consentono un'interazione con l'utente ogni elemento dovrebbe essere unicamente identificato tramite il valore del suo attributo name c'è un attributo speciale appunto che è il name per i controlli del form che serve tra l'altro anche poi a racchiudere il valore inviarli al server nella modalità tradizionale però è univoco di ogni controllo perché così è possibile associare un nome univoco ad ogni valore inserito dall'utente esistono diverse categorie di controlli a disposizione dell'utente per esempio ci sono i controlli di input dove è possibile inserire per esempio del testo o comunque selezionare delle cose i controlli di selezione, dei bottoni e poi degli elementi di supporto come per esempio le label che vedremo tra un istante gli elementi di input, diciamo il più comune tag e anche il più flessibile uno dei più flessibili è l'input è un tag che appunto ha un tipo che può assumere tanti diversi valori qui vediamo un esempio di tag che ci consente di inserire del testo e ognuno di questi controlli ha un attributo speciale che si chiama value che è il valore che l'utente inserisce all'interno della casella di testo o del controllo dell'HTML che stiamo manipolando poi ci saranno degli attributi particolari ogni tag di input di un certo tipo e così via tutti gli altri tag che compongono i controlli del form hanno delle proprietà, attributi particolari che potete andare a cercare sul manuale noi qui vediamo i principali per esempio place alter è comunemente utilizzato perché vi consente di scrivere questo testo in grassetto che è il testo diciamo scusate in grassetto in grigetto che è il testo che compare prima che l'utente comincia a scrivere qualcosa e quindi è una specie di suggerimento di cosa va inserito in questo campo è possibile accedere via javascript tramite il DOM agli elementi del form in maniera relativamente semplice esiste una proprietà che si chiama forms che è un array all'interno di document che è una collezione di tutti i form della pagina perché potrebbe tra l'altro esserci neanche più di uno e è possibile accederci per esempio tramite l'id del form questa è una delle motivazioni che ci spinge ad inserire l'id altrimenti sono numerati sequenzialmente 0,1,2 ecc il nodo form quindi questa espressione il my form ha a disposizione un array di elementi che sono i vari controlli contenuti all'interno del form stesso che contengono poi i dati effettivamente inseriti dall'utente anche questi è possibile indirizzarli tramite una chiave che può essere l'id oppure il nome qui vediamo la lista dei vari controlli che è possibile realizzare col tag input quindi il type può essere tutta una serie di valori come vedete dal bottone di cui parleremo più avanti la checkbox, un colore, quindi è possibile selezionare con un picker un colore piuttosto che una data piuttosto che inserire un'email e quindi viene fatta una verifica che sia un'email piuttosto che caricare un file selezionare un file da file system locale un numero, una password che quindi quando scrivete compare diciamo non in chiaro ma in modo che non sia visibile quello che viene scritto e tutta un'altra serie di valori quindi è possibile utilizzare l'input per realizzare dei radio button quindi bottoni a scelta esclusiva piuttosto che range telefono, testo che è il più comune quindi testo libero piuttosto che un url e così via potete andare a cercare sulla documentazione tutti i valori possibili tra l'altro alcuni sono stati introdotti come vedete da HTML5 quindi HTML5 ha introdotto tutta una serie di nuovi campi tra l'altro con associato un meccanismo di validazione che prima non era presente quindi veniva demandato interamente allo sviluppatore della pagina e fondamentalmente al codice javascript mentre invece adesso tramite appositi attributi è possibile inserire già dei vincoli in quello che è la validità del contenuto inserito dall'utente questi sono alcuni attributi comuni utilizzati sul controllo di input per esempio checked che non è selected ma è checked bisogna fare un po' attenzione prendere un po' la mano e consultare le guide in questi casi per evitare di usare dei valori che non siano corretti per il controllo vedremo che ci sarà un selected più avanti checked si applica ai radio button la checkbox indicano che la checkbox è selezionata tra l'altro questi attributi possono essere ovviamente manipolati da javascript impostati a dei valori piuttosto che letti c'è l'attributo disabled che consente di disabilitare il controllo cioè renderlo ingrigetto in maniera che il browser non consente l'interazione all'utente oppure avere un controllo normale ma di tipo read only dove l'utente per esempio può solo leggere ma non scrivere oppure può essere specificato che l'attributo è richiesto e quindi è necessario avere dell'input in quel controllo perché il form sia sottomesso altrimenti il browser blocca direttamente l'operazione di sottomissione senza bisogno di alcun codice codice javascript la dimensione di controllo piuttosto che il valore che è il valore inserito dall'utente piuttosto che altri attributi come per esempio l'autocomplete che è un suggerimento per la funzione autocomplete del browser e così via quindi questi sono i più comuni secondo il tipo di controllo poi ci possono essere attributi specifici per esempio se abbiamo che sono un type number ovviamente potremmo specificare un minimo e un massimo che non hanno senso in un type text mentre in un type text può avere senso un pattern quindi per esempio un'espressione regolare che dica che tipo di testo è consentito quindi 8 caratteri in questo caso solamente caratteri alfabetici maiuscoli, minuscoli piuttosto che tipi di file eccetera e così via quindi avete il link alla guida da consultare in caso di necessità c'è ancora un'ulterore tag interessante che è il tag label che ci consente di associare una caption per un elemento nell'interfaccia utente tramite gli attributi for della label e id dell'input quindi se in questa maniera mettiamo label, for, cheese e questo id che scegliamo noi come sviluppatori della pagina e assegniamo un controllo di input avremo un qualcosa di questo tipo che mantiene insieme sostanzialmente la label che è equivalente diciamo ad uno span e quindi un elemento in line in cui tendenzialmente inseriamo del testo e viene associato al controllo corrispondente e questo facilita tutta una serie di operazioni per esempio è importante per questioni di accessibilità perché viene per esempio letto dagli screen reader piuttosto che ci consente di facilitare il click su elementi che graficamente sarebbero magari piccoli soprattutto visualizzati su un'interfaccia di tipo mobile su touch screen e così via cioè la label essendo associata al controllo di fatto reagisce agli stessi eventi e quindi è possibile cliccare la label per far apparire per selezionare il controllo e così via quindi è utile da conoscere e anche consigliato l'utilizzo per i motivi che dicevamo ribadiamo che tutte le proprietà che vediamo quindi gli attributi che vediamo sugli elementi che costituiscono sui controlli che costituiscono il form sono disponibili tramite il DOM in particolare abbiamo già visto il value che è quello che sostanzialmente ci consente di recuperare il valore inserito dall'utente e possiamo anche impostarlo da javascript quindi possiamo anche mano a mano che l'utente scrive andare a fare delle modifiche e cose di questo tipo da codice check the ci ritorna lo stato dell'elemento piuttosto che lo imposta e validity che è una proprietà interessante dall'html 5 poi che ci consente di sapere se l'elemento effettivamente è in un stato valido oppure no per gli elementi che prevedono appunto questo tipo di controllo esistono tutta una serie di altri controlli oltre al tag input che abbiamo diciamo descritto ampiamente che consentono di realizzare altri elementi di interazione per esempio le text area che sono un campo di testo a più linee quindi non singola linea come invece l'input type text e simili tra l'altro notate che a seconda dei dei browser e delle opzioni che inseriamo questo questo controllo può anche avere degli aspetti piuttosto differenti anche a seconda del suo stato quindi il disabled che può a seconda del browser sostanzialmente può avere aspetti anche piuttosto diversi su questo aspetto torniamo tra un istante altri controlli di uso comune sono quelli con il tag select che prevede tutta una serie di options quindi una combo box una lista nella quale se vogliamo indicare un elemento già preselezionato dobbiamo inserire selected tra l'altro supporta anche selezioni multiple ovviamente con magari un formato differente però formato grafico differente e qui è dicevamo selected anziché checked bisogna consultare le guide nel caso in cui avessimo necessità abbiamo infine i bottoni i bottoni sono degli elementi che ben conosciamo ma siamo abituati a trovarli appunto in questo genere di interfacce e i bottoni sono sostanzialmente costituiti da dei tag un tag anzi button che può avere tre tipi può essere di tre tipi type può essere type submit quindi premuto invia i valori di tutti i controlli del form al server se non facciamo altre azioni può essere di tipo reset e quindi reset tutto il contenuto del form allo stato iniziale e di tipo button cioè non fa nulla e quindi il suo comportamento verrà definito dalla callback javascript che collegheremo a questo bottone tramite che sono un listener o qualcosa di questo tipo ecco esiste il tag button che è sicuramente un po' più flessibile del vecchio modo di definire il button che era input type uguale button perché? perché in questo caso possiamo inserire del contenuto di markup del test e così via quindi possiamo diciamo inserire per esempio delle immagini sui bottoni eccetera e questo ce lo rende molto più flessibile dal punto di vista dell'utilizzo dicevamo dicevamo delle questioni di aspetto grafiche di interfaccia che diciamo visto che i form sono diciamo una tecnologia che è stata introdotta così tanto tempo fa non erano state prese molto in considerazione all'inizio e ancora oggi si riscontrano un po' di differenze tra i vari browser questi dovrebbero essere gli aspetti per esempio di una normale input type text quindi un normale input per iscrivere del testo su chrome firefox e safari se non sbaglio in cui a seconda del valore dello stato sostanzialmente vedete che l'aspetto è un po' diverso e quindi se vogliamo realizzare delle interfacce grafiche che siano uniformi secondo diciamo quello che vogliamo creare dal punto di vista grafico e anche indipendenti dal browser e dall'applicazione che dal sistema che utilizziamo per visualizzare la pagina dobbiamo sicuramente rivolgerci in primo luogo al CSS quindi CSS può modificare alcuni di questi aspetti grafici però non è sempre facile sicuramente potete andare a consultare varie guide online però come avete visto anche in laboratorio ci sono degli elementi che sono più ostaci di altri quindi per esempio come avete visto in laboratorio le checkbox per andare a modificare il colore di sfondo delle checkbox questo è abbastanza complicato da fare a mano in CSS e in più ci sono altri elementi che non sono proprio gestibili in maniera facile via CSS perché magari sono dei widget nativi e così via quindi trovare una soluzione a questi problemi in CSS è talvolta addirittura impossibile come possiamo fare quindi di fatto andiamo ad utilizzare delle librerie dei framework che abbiano risolto il problema per noi fatichiamo molto meno e stiamo quindi in grado di avere un'esperienza uniforme indipendentemente dal browser utilizzato piuttosto che dal controllo che decidiamo di utilizzare perché qualcuno ha già risolto il problema per noi abbiamo già visto per esempio bootstrap che ci fornisce tutta una serie di elementi da utilizzare nei form e questo appunto vi invito caldamente ad utilizzarli piuttosto che esistono librerie come il user interface che vi fornisce dei widget standard anche un po' personalizzabili per esempio per realizzare per dire un date picker quindi la selezione di una data diciamo in maniera un po' user friendly e così via quindi tra l'altro usare le librerie potrebbe anche anzi migliora sicuramente l'accessibilità e nonché standardizza il comportamento su vari tipi di browser perché appunto qualcuno lo sviluppatore della libreria o del framework si è già preoccupato di sistemare tutti questi aspetti che tecnicamente non aggiungono nulla alla funzionalità del nostro sito ma lo rendono molto più fruibile e utilizzabile veniamo ora all'ultimo aspetto di questa lezione ossia la validazione il contenuto dei form che cosa vuol dire validare il form nel momento in cui inseriamo dei dati all'interno del form questi dati diciamo vorremmo che fossero perlomeno formalmente corretti è inutile inserire del testo dei caratteri abc eccetera in un campo che si aspetta dei numeri e così via è inutile inserire un numero troppo grande quando sappiamo che abbiamo un certo massimo e così via se vogliamo un'email ci aspettiamo che formalmente sia un'email e quindi abbia almeno una chiocciolina da qualche parte rispetto ai canoni sintattici dell'email e così via quindi nel momento in cui utilizziamo controlli progettati a questo scopo siamo in grado di demandare per lo meno una parte di questi controlli al browser per esempio con html5 molti di questi controlli abbiamo visto che sono in grado di effettuare un check un test per verificare che i dati inseriti siano nel formato corretto per esempio appunto se ci aspettiamo un numero ci consente di inserire solo dei caratteri che corrispondono ad un numero se siamo su un dispositivo mobile per esempio ci viene addirittura fuori solamente la tastiera che contiene solo numeri e così via questa verifica può essere fatta sia lato client quindi tramite i controlli html5 e poi per tutto ciò che vorremmo gestire diversamente o non già previsto in html5 tramite codice javascript che scriviamo noi sviluppatori dell'applicazione e poi questa verifica nel momento in cui questo form viene effettivamente sottomesso ad un server andrà poi fatta anche lato server perché assolutamente non è pensabile diciamo lasciare al client la verifica di del diciamo la validazione dei contenuti del form nel momento in cui questi contenuti devono essere utilizzati su una macchina remota perché abbiamo visto per esempio pensate all'inspector del browser potete fare tutto quello che volete modificare tutto quello che volete e poi fare in modo con una semplice riga per esempio di javascript nella console di sottomettere il form con i dati che ci sono e così via quindi questo riguarda però più che altro la modalità diciamo tradizionale di interazione col server quando abbiamo una pagina web che prevede di sottomettere il form al server e di ricaricare la pagina stessa nel momento in cui resta tutto sul client quindi abbiamo una cosiddetta single page application che non prevede di ricaricare nulla se non ciò che viene fatto in maniera autonoma dal codice javascript lato client sulla base di quello che viene visto essere necessario tramite diciamo quello che l'utente ha inserito allora in questo caso non avremo una parte server che deve fare delle verifiche se non per i pochi dati che vengono trasmessi diciamo dalle richieste asincrone del javascript che gira sul nostro client comunque quando parleremo di questa parte che ci realizza sul server la possibilità di leggere e di immagazzinare quei pochi dati che nelle nostre applicazioni fondamentalmente basate sul client sono necessari che devono essere gestiti lato server parleremo di questo problema più diffusamente della validazione dell'informazione ok quindi nel momento in cui siamo su un'applicazione diciamo moderna il form ci serve fondamentalmente per consentire all'utente di inserire dei dati che poi la nostra applicazione elabora principalmente localmente e poi quando necessario va a portare sul server o a leggere dal server possiamo utilizzare differenti modi per fare la validazione lato client possiamo come già detto utilizzare i meccanismi di validazione dell'html5 per esempio abbiamo già visto che so il controllo input che chiede con type quale email ha un pattern predeterminato che consente di inserire solamente un'email sintatticamente valida e se inseriamo un url stessa cosa e così via numero eccetera possiamo avere anche attributi addizionali abbiamo già visto questo required per esempio se non inseriamo nulla all'interno di questo del controllo che ha l'attributo required il form è in uno stato invalido e non può eventualmente essere sottomesso oltre a questi controlli html5 abbiamo a disposizione javascript che è un linguaggio di programmazione completo in grado di interagire con i nostri controlli del form e quindi siamo in grado di fare tutto ciò che non è già a disposizione e quindi implementare logiche particolari relative alla nostra applicazione e così via la validazione fatta dal browser si basa su tutti quegli attributi che abbiamo visto quindi per esempio specifici di ogni controllo che sono massima lunghezza minima lunghezza piuttosto che tipo di dato piuttosto che un pattern che inseriamo e così via e in più notate che ci consente anche di usare degli elementi stilistici differenti a seconda dello stato del controllo per esempio ci sono queste due classi pseudo classi anzi CSS perché inizia con due punti quindi sono come quelle del quando si sposta il mouse che sono over piuttosto che active eccetera e esistono queste due classi validi e invalidi che ci consentono di usare stili differenti a seconda che il tipo che il controllo contenga dei dati che si ritengono validi o invalidi tutto ciò viene fatto in maniera automatica dal browser per esempio guardiamo questo esempio quindi applicazione dello stile in maniera automatica in controlli di forma che sono gestiti automaticamente dal browser per esempio prendiamo input type uguale email essendo type uguale email si aspetta un email fino a che non inseriamo un email valida la pseudo class dell'input sarà invalid e quindi si applicherà questa regola invalid che prevede il bordo tratteggiato rosso per il momento in cui diventa valida diventerà nero solido e questo viene verificato ogni volta che cambiamo qualsiasi cosa all'interno della casella quindi magari per non disturbare di continuo l'utente poi vorremmo anche fare qualcosa di diverso che magari è implementabile via javascript o diciamo in altra maniera però diciamo che questo ci consente comunque di andare a avere una prima forma del tutto automatica perché è basata su una serie di regole cioè attributi che decidiamo e stili che dichiariamo che viene gestita interamente dal browser nel momento in cui ci serve qualcosa di più sofisticato non a disposizione all'interno di quanto già messo a disposizione nel browser dobbiamo rivolgerci a javascript e se vogliamo tra l'altro anche avere un aspetto graficamente uniforme tra browser differenti nel momento in cui ci sono gli errori e quindi viene presentato un messaggio di errore all'utente per esempio perché non ha inserito che so qualcosa nella forma corretta e così via dobbiamo per forza utilizzare javascript ci sono due modi per utilizzare javascript per la validazione dei form uno usare l'API cosiddetto constraint validation che ci viene messo a disposizione da molti di questi controlli dei form e l'altro è quello di usare i nostri classici event listeners su alcuni eventi specifici oltre che ovviamente su tutti gli altri che necessitano della nostra attenzione come click eccetera quindi questa è l'API di validazione quindi ci sono tutta una serie di proprietà e metodi disponibili tramite accesso via DOM sugli elementi di un form quindi esistono controlli di tipo differente button piuttosto che input piuttosto che select eccetera più o meno analoghi a quelle che abbiamo già visto in precedenza e che ci forniscono un'interfaccia che fondamentalmente è basata su queste proprietà e metodi più eventuali altri diciamo specifici dell'oggetto stesso le proprietà sono il validation message quindi possiamo andare a leggere qual è il messaggio che viene scritto dal browser in caso di problemi piuttosto che andarlo a cambiare con un metodo apposito e quindi customizzare questo messaggio possiamo andare a capire qual è il problema che causa l'errore di validazione perché ci viene dato un oggetto di tipo validity state che include tutta una serie di sottoproprietà true false per dire se è un problema di pattern piuttosto che troppo lungo troppo corto piuttosto che mancanza di valore eccetera eccetera e in più abbiamo una proprietà che ci dice se nel momento in cui il form fosse sottomesso l'elemento sarebbe in una condizione valida e quindi ci consente facilmente di andare a verificare se l'elemento contiene del contenuto valido oppure no secondo le regole predefinite dell'elemento stesso nel momento in cui però abbiamo bisogno di qualcosa di più sofisticato andiamo ad agganciare degli event listener e quindi dobbiamo conoscere quali sono gli eventi lanciati dai controlli del form per poter diciamo poi scrivere del codice che reagisca a tali eventi gli eventi più importanti li vedete riassunti qui ovviamente oltre a tutti gli altri eventi che naturalmente tutti gli oggetti html gli elementi html lanciano quindi che sono click double click mouse over eccetera tutti questi vari eventi che sono comuni a tutti ma questi eventi sono particolari in aggiunta per gli elementi di input quindi viene lanciato l'evento input nel momento in cui il valore dell'elemento viene cambiato anche se fosse un singolo carattere stiamo scrivendo nella nostra casella di testo aggiungiamo un nuovo carattere viene scatenato un nuovo input un nuovo evento input cancelliamo un carattere idem e così via c'è anche l'evento change che viene lanciato un po' meno spesso perché sostanzialmente viene lanciato quando per esempio per il caso di un elemento di tipo testo l'elemento perde il focus e quindi l'utente è passato a scrivere o interagire con un altro elemento e quindi viene fatto un controllo se ciò che c'è è uguale a quello che c'era prima non succede niente ma se è cambiato ci viene lanciato l'evento change così che noi possiamo in javascript andiamo a recuperare il valore senza essere notificati per ogni singolo carattere o tocco che viene effettuato all'interno di questo input element ci sono gli eventi che vengono lanciati nel momento in cui viene effettuata un'operazione di cut copy and paste quando l'utente fa tale azione possibilmente da non disabilitare nel senso da non impedire perché poi che so di utilizzare un paste piuttosto che un copy perché poi l'interfaccia utente diciamo ne soffre sensibilmente se vuol dire che non potete fare il copy e l'incolla in un campo di un form ovviamente dovete scrivere a mano e la cosa può essere fastidiosa ci sono gli eventi diciamo quando l'elemento ottiene il focus piuttosto che lo perde quindi quando l'utente clicca su un elemento e lo fa diventare attivo piuttosto che no e poi c'è questo evento speciale invalid che viene lanciato nel momento in cui il form viene sottomesso quindi che so viene viene premuto il bottone sabito piuttosto l'utente che so preme un invio su una casella di testo che fa si che il form venga sottomesso e preme le vie della tastiera diciamo e fa si che il form venga sottomesso e questo evento viene lanciato per tutti gli elementi che tutti i controlli tutti i controlli del foro che si trovano in uno stato invalido quindi se che so avessimo 5 controlli ma ce ne sono 2 invalidi solo per quei 2 viene lanciato l'evento invalido quindi se noi avessimo dei listener possiamo andare a reagire a questo evento e inoltre viene anche lanciato per il form che contiene questi controlli invalidi e quindi possiamo eventualmente attaccare un listener sul form a livello superiore se lo riteniamo opportuno quindi qui vediamo un esempio quindi un form con due input input type text input type submit quindi normale testo più submit il bottone poteva esserci anche il button non cambia nulla una volta che abbiamo selezionato l'elemento in questo caso il primo l'input type text con la sintassi diciamo dei selettori css usando il metodo qui riselecto che abbiamo già visto di javascript abbiamo un reference al primo elemento l'input type text e possiamo aggiungere dei listener per esempio per l'evento input e questa è una stampa in console potete provare questo pezzettino di codice e vedrete che tutte le volte che scrivete qualcosa nel campo vi verrà fuori una stampa nella console la tenete sotto è aperta e così vedete subito la reazione questo invece viene richiamato solamente nel caso in cui fate perdere il focus alla text area e il contenuto è cambiato quindi cliccate al di fuori e quindi spostate il focus dell'utente sposta il focus al di fuori di questa casella e verrete questa stampa con il valore che è un valore che deve essere tra l'altro diverso da quello che c'era in precedenza perché se ricliccate dentro e fuori senza cambiare il valore questo non viene lanciato abbiamo detto che nel momento in cui il form viene sottomesso nelle applicazioni tradizionali il browser si prepara a ricaricare la pagina e quindi si aspetta una risposta tipo html del server e vuole ricaricare la pagina questo non è il comportamento che vogliamo avere nel caso delle single page application cioè delle applicazioni diciamo moderne web moderne perché vogliamo controllare noi quando andiamo a caricare i dati del server piuttosto che quando andiamo a fare modifiche all'interno della pagina e così via e quindi per far sì che non venga ricaricata la pagina è necessario andare sempre ad intercettare l'evento submit sul form e andare ad effettuare l'operazione di prevent default che avevamo già visto parlando degli eventi sul DOM che evita la sottomissione del form e poi fare le nostre elaborazioni che riteniamo se vogliamo quindi questo è sempre da fare anche se non abbiamo un bottone di submit perché potrebbe esserci qualche cosa che succede all'interno del browser per esempio la pressione di un invio e così via cose che scatenano la sottomissione del form e ovviamente se lasciamo così l'operazione andare avanti il browser ricarica la pagina e quindi perdiamo tutto lo stato lato client della nostra applicazione abbiamo quindi concluso il nostro discorso sui form discorso relativamente breve diciamo i controlli sono abbastanza semplici bisogna solo fare un po' di pratica nell'utilizzo e qui trovate comunque tutti i riferimenti per diciamo andare ad approfondire o ricercare le informazioni nel momento in cui ne avete necessità vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima lezione grazie a tutti